Bella a tutti ragazzi, sono Rosam e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo su Fortnite, sempre Fortnite E faremo una challenge Devo uccidere i nemici E i nemici con l'auto, però per sicurezza prendo sempre le armi Ragazzi vi ricordate la live di ieri? Alla fine non ci sono stati eventi purtroppo Poi dopo un po' ho provato, mi stavo sempre su Fortnite Vedete se c'erano eventi ma non c'era niente Poi ho chiuso, mostra Non c'era niente Raga non c'era niente Aspettiamo anche carichi Allora Caccate, è forte Guarda quanti nemici ha sconfinto La papera, il coniglio E poi Mi sono messo gente bananita Ho il passo di queste Sono comunque Ho le cosci Ho le cosci di pollo Ho le cosci di pollo raga Eh, adesso si E' se andai il passo Allora andiamo a sabbia sudate 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 Allora sabbia sudate Ma perché dice il nome dei miei amici Dice invitali per fare Perché non è inventata sta cosa raga Non so come Beh non fa niente Continuiamo a giocare Allora tiriamo a sabbia Allora Devo trovare le armi e un'auto E l'auto io non c'ho trovato due Tre Devo prendere un'arma E poi andare Ok Ok Ho il tattico Ok E ora dobbiamo andare Per sicurezza Sempre Mi sono preso le armi Per non che fosse Ok Dai devo sbicarmi Non puoi mettarsi Ah Vai il tattico Ehi Mi girate Lo uccido con la macchina E' una cosina E' un razzo Ah no Non è razzo Non finirà Non è razzo Se lo sbaglio Ucciso Andiamo a vedere Linguotti Adesso Dobbiamo fare solamente Kill Con l'auto No Mi sembra Per fare Kill E devo andare A benzina Io metto Andiamo a fare La benzina Ok Andiamo a fare la benzina Andiamo a fare Così siamo pronti Se vuoi Della puccia Di fuori Oddio la banana E' una cosa Dove è venne? Eccolo Le granate raga Ragazzi non ci credo Non ci posso credere Ragazzi non ci credo Ragazzi cambia voce Cambia voce Allora raga Vi ricordate Vi ricordate Ieri Alla live Che era Se mi andava più Voglio Un'altra live Cambia voce Allora Ciao Cambia voce Cambia voce Adesso pure Ciao Avete sentito Quella voce Era Un microfono Un altro microfono Blu Un microfono E' un altro microfono Vabbè Avete capito Insomma Devo vedere Kill Con le macchine E questa cosa Non me la devo Dimenticare Assolutamente Per nessuna ragione Al mondo Se no Perdo la sfida Ok Adesso Andiamo a Foschi Se ci sono Auro Spero di sì Spero di sì E' un'auto Auto Auto E' un'auto Spero E' rotta Annaggia Però Anche L'altro E' rotta Un'arma Devo trovare un'arma Assolutamente La cascina No Un'armo Un' Un'automobile No Non devo fare Kill con le armi Non è stata una Buona Di andare Al foschi Comunque Ma perché Non mettere Un generatore Un generatore Di Di Una cosa Che se lo mangi Diventa Una Una cosa Basta Io me ne vado Vado a prendere Un Una Come si chiama Una macchina Una macchina Daga Così Posso fare La kill Dei kill Oh Ok Non c'è Trovato due Vendo quella rossa Che bella Se voglio Uccidere Questa Devo farlo Con la macchina Problemi Me le prendo Lo stesso Allora Andiamo Un benzinaio Dove posso trovare Un benzinaio Ecco La A 400 A 400 A 500 Non so Va troppo veloce Che non riesco a leggere Che Che Cambio Veloce Poi Stai No Gioco al volante Ridotto Dove fuori Auto Non fermarti Sono qua Siamo quasi arrivati Ok Siamo arrivati Ok Ok Raga Stiamo mettendo La benzina No Che c'è Che c'è Ok Facciamo andare Ok Andiamo Andiamo A fare Kill Andiamo A presto Un benzinaio Anzi Allora Mettiamo Un'altra Tadaro pulandola Per sicurezza La rana Mi stiamo La Chissà Che Fulc Sarà Ma Non 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 Mi spucci C'è L'ingegno Ok Spendiamo Loud Loud Spero Che mi sentite No Non ho voglia La musica Se non Non mi sentite Ok Mettiamo L'altro L'ingegno Ok Ognuno Ognuno Raga Alla prossima Adio, carolina Andiamo, raga dai nemici a capire che devo fare una challenge qualcuno lo ha sparato mettiamo un'altra benzina per sicurezza vabbè no 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 o si guarda quanto ricorporante ci rimane no che sceno auto 54 non è meglio ecco un nemico da investire veramente no perché mi ha fatto scendere devo fare la giornata ecco stavolta un posto pieno di nemici così possiamo fare le kill ragazzi ragazzi non so se faccio live stasera non lo so vediamo spero di sia allora carica che sto caricando sto caricando sto caricando sto caricando sto caricando ok eccoci ragazzi ragazzi se avete visto non lo chiedete fuori vi ricorda di questa parte non lo chiedete fuori vi ricorda di questa parte e 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 ok nemico e e auto 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 e e e e la s spero che sia giustata non è spero che non è rotta della arma e credi su m Firefox tutto quel τη Presto patina il concetto per 재ems se salendo noi mangiarti hai mai dentro e bravo molly devo andare subito a un benzinaio magari qualche altra auto a quale rotta devo andare a un benzinaio perfetto benzinaio è quasi finito raga c'è un nemico? si due nemici anzi no ma non è difficile che li arrivi con le macchine ma perché non è difficile devo ammettere ma si scarica il carburante dopo spiegami la cinesca di carburante raga è vero sono costinto a prendere il camion benzina cambia l'auto che fortuna quanto sta su? scusate quanto sta? sentire se devo sbrigarmi Ah, ecolo! Anche con questo scade il carburante! Ma se mori Mario Mario! Non è male che devo mettere la benzina! E adesso? Ok, se ne dimassi altre due posso prendere questa euro! La cosa è già al massimo! Perfetto! Dai ragazzi, dovremmo fare almeno delle Kg costava la euro! Dosa, cosa vuoi? Noi! Dosa, dina! Dosa, dina! Dosa, darvi! Dosa, dina! Qua c'è stato qualcuno, magari c'è qualcun'altro ancora, infatti c'è qualcun'altro, dimarro, vuoi essere piaciuto da una banata? Dove è finito? Dove è finito? Spero tanto che mi sentivo, eccolo, non dico l'area, ah ah, il medikit me lo faccio io, no te e mar, ah ma se l'hai fatto? Nooo, come ho fatto? Se l'hai fatto allora, lui l'ha vinto Vabbè dai, l'ho in vista Allora, l'abbiamo fatto l'almeno un film Da certo minuto che c'è l'unità, l'ho incredibile Dai, saprò ti tolmene, devo continuare Deve continuare E che un medikit Possiamo andare, faccio il medikit, andiamo Oh raga, che partita Cos'è stavolta? Ragazzi? Cos'era? Vabbè, andiamo Andiamo a fare carburante Una bella morchiglia Nera Ho tramesso la raga Ah, non c'è la radio raga Sapete perché c'è il rischio che non mi sentivo Guardate No, che scemo che sono Ok, vai Mettiamo il carburante Ok Andiamo No, così torniamo indietro Ah, c'è un'altra Vabbè, questo è un'altra E nemici Ho investito in un'altra gallina Sono i geni Dele investimenti Ragazzi Su forza La gandiamo Spendiamo Spendiamo Laptor Non è possibile che non sono i miei nemici? Sono 23 Ok, bingo Raptor Scappiamo Ragazzi C'è un casino Scappiamo Più veloci del mondo E' superato E' superato Prendiamo il carburante Raga Che casino Addio Au Non sono fatto niente Andiamo raga Ho una Ho una Che mi sta Oseguando Su Fortnite No, così Così Andiamo fuori Safe Ragazzi Però togliamo il ping Ah, lo mettiamo qua Ragazzi Ok Che partita con l'auto Raptor Ora non sono i miei nemici Vieni via In cerca di nemici I Raptor Ragazzi Ragazzi Raptor Non mi insegui da Non siamo mica In Jurassic World Non mi insegui da Non mi insegui da Così 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 Non mi insegui da 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 ragazzi rapido sono là non li vedo no ho quasi un nitrocarburante devo tornare indietro anzi camburgo l'auto che è il carburante ok che rapido ti sono le calcagni dai forza raga raga ma i nemici ok a Lamborghini che è stato? ah anche e qua con la sopra ragazzi che partita raga che partita che partita che partita che partita ragazzi spero tanto che questo video mi sia piaciuto lasciate un like attivate la campanellina al prossimo video per favore fatemi un favore nel qua scrivetemi se c'è un evento un giorno per favore se lo sapete se lo sapete si so e mi scrivete e non sono poi nascute quindi niente ciao raga al prossimo video ti potete lasciate lasciate il canale lasciate un like ricordatevi ciao ciao